popolo rosso nero amici youtube benvenuti a bezzinero stadium ho voluto per forza fare un video perché la notizia è di quelli sensazionali di quelli che ti fa saltare dalla gioia però poi deve concretizzarsi perché se no sono le solite voci dei giornali per vendere comunque non vi tengo sulle spine raga oggi mi stavo informando su quello che stava succedendo nel mondo milan ho visto molte notizie importanti ma quella che mi ha fatto godere come un cinghiale un maiale è stata che il milan sembrerebbe pronto ad offrire alla lazio romagnoli per avere luis alberto cioè luis alberto uno dei giocatori più forti della lazio un giocatore che se lo prendiamo faccio festa fino alle 4 del mattino raga un giocatore che veramente cioè mi si uniscono le orecchie dalla felicità se arrivassermi a parte gli scherzi raga luis alberto farebbe davvero il caso nostro perché su quell'alto va bene salame che era un ottimo giocatore però pecca nella fase offensiva ottimo nella fase difensiva ma pecca gli mancano quei gol per farlo diventare un campione gol che invece ha nei piedi luis alberto quindi sarebbe uno scambio ovviamente non alla pari scambio più conguaglio economico per la lazio secondo me comunque romagnoli un giocatore che alla lazio secondo me ci andrebbe anche il problema cos'è le richieste sempre comunque economiche di mino raiola e sono convinto anche che in questa trattativa mino raiola si metterà i bastoni tra le ruote perché se vorrebbe mandarlo in altre squadre per fargli guadagnare più soldi cosa che secondo me lo tirchio non farà mai ma secondo me lo tirchio è per quello che io la reputo una suggestione di mercato più che una grossa possibilità che noi possiamo realmente concludere perché lo tirchio secondo me non gli dà manco i soldi che gli stiamo dando noi al nostro capitano romagnoli detto questo sarebbe fantastico se arrivasse a milan vedremo nei prossimi giorni gli sviluppi se è stata solo una fake news o è una cosa che è realmente fattibile detto questo comincia a chiudersi la trattativa per brain diaz corre a madrid dicono che siamo veramente vicini alla conclusione di questa trattativa con un diritto di riscatto per il milan a 20 milioni io sono davvero contento se lo prendiamo perché a me è piaciuto gli vedo margini di crescita importanti poi i giocatori tecnici più ne hai meglio è quindi ben venga altra notizia importante bacca ioco bacca ioco vuole tornare fortemente al milan è un giocatore che vi dico la verità a me non ha mai entusiasmato più di tanto perché comunque io ricordo la prima parte di stagione che ha fatto al milan non è che aveva fatto cose anzi faceva fatica a trovare spazio poi è uscito bene è uscito bene nella seconda parte e mi era anche piaciuto ma comunque sempre senza entusiasmasmi perché è un giocatore abbastanza macchinoso l'anno scorso al napoli altalenante altalenante comunque un giocatore altalenante fa partite buone e partite meno buone certo se la trattativa è nettamente vantaggiosa per il milan reputando anche il fatto che bacca ioco col cersi è scadenza di contratto quindi l'anno prossimo lo potremo anche avere a zero quindi prestito quest'anno e a zero l'anno prossimo è una valida alternativa riscatto tonali hai ben a sere che si riscatto tonali più bacca ioco alla fine dovremmo comunque così blindare il nostro centro campo su adli non parlo perché non ci capisco un cazzo di quello che sta succedendo raga se ditemi la vostra su questi possibili colpi di mercato noi ci speriamo il milan però si muove nel silenzio iscrivetevi al canale sempre forza milan